Potente a pala ragazzi, qua ho Axelogio Megato, oggi sono Assolo e sono qui a presentarvi questo nuovo video che è l'episodio numero 4 del Potiscitella a pala Che è quella serie abbastanza ambigua, con una squadra ambigua, cercherò di non retrocedere in nessuna divisione, come vedete l'obiettivo è cambiato Comunque in questo episodio vedrete 4 partite se non mi sbaglio, perché sono di più e l'episodio dura così poco? Perché diciamo in questo episodio si noterà come un avversario, come un giocatore reagisce quando vede che il proprio avversario, che nella squadra del proprio avversario è presente Piscitella, Moscardelli e il talismano Traore Poi ragazzi vi volevo anche dire che ho visto tutti i commenti del scorso video, del scorso Potiscitella dove avevo appunto fatto il contest, solamente ero indeciso tra due o tre Quindi adesso io metterò magari a fine video questi tre commenti e vi chiedo cortesemente di commentare scrivendo quale voi dei tre preferite Così per poi appunto scegliere il vincitore, comunque vabbè io quando vuoi avere questo video sarò già in vacanza E però dettagli, quando tornerò darò i 10.000 crediti al vincitore e inizierò a chiamare appunto con i soprannomi tutti i giocatori della mia squadra Comunque la prima partita va abbastanza bene perché vinco 3-0, giamare Piscitella con questo grandissimo gol firma il 3-0 E appunto come vi dicevo prima l'avversario dice no ragazzi questo a Moscardelli, Piscitella, Traore non posso competere con lui E quitta già alla grande E quindi io ero già lì abbastanza felice perché avevo appunto perso l'ultima partita come avete visto nell'altro episodio E qua ero carico e ho detto dai che ci rifacciamo perché avevo perso perché era l'unica partita se vi ricordate Mi sembra dove non c'era il talismano tra il retitolare Però vabbè dettagli E adesso invece cerco un'altra partita che però c'era la tenza 1 o 2 quindi non volevo giocarla E trovo minghie questo bel 3-5-2 nella Lega Russa con in attacco Wellington e Emeniche Ma guardate qua la finalizzazione di Iaquinta che gol stava per fare Ahimè la porta si è spostata quindi lui non ci poteva fare niente Comunque vi stavo dicendo della sua squadra Cioè pensate avere in difesa Iepes Ah poi ho comprato Stendardo che è la bandiera della squadra E ho pensato in difesa avere Iepes, Aronica e Ranocchia contro Emeniche e Wellington Tipo un 54 di difesa contro un 91 Però vabbè dettagli Invece poi alla fine Iaquinta ci proverà con un altro gol più di testa ancora Jonathan che firma il 2-0 se non mi sbaglio al 44esimo E anche qua l'avversario dice no ragazzi Jonathan io non posso competere con lui Quitiamo quindi vinco per la seconda partita di fila Grazie a un quit dell'avversario vabbè poi non so come sarebbe finita la partita Però sta andando abbastanza bene E quindi il risultato vittoria sconfitta era 7-0-1 abbastanza buono Poi mi sono passato ecco dei contratti Non so se l'ho fatto vedere perché ragazzi non so se avete visto Ma quanto cavolo costano Pagare un contratto 500 è una ladrata E quindi ho detto ma si negli altri account ce li ho me li passo Invece adesso guardate un po' che squadra trovo contro Un 4-5-1 con un attacco il magico Swayne Però guardate al primo minuto io la metto in mezzo Il portiere la prende anche lui dice no ragazzi Jonathan Moscardelli traurepiscitella Io non posso farsela si fa un bell'autogol Un po' potente E poi cosa fa? Quitta anche lui Quindi è una cosa veramente bella E comunque aspettate Mi date un attimo il tempo Date un po' due secondi tattici Io vi andrei a cercare anche Eh ma non ce la fo' mi sa Eh wait Tanto voi gustatevi il video Guardate qua Che bella azione Io non sto guardando quindi non so neanche se stanno facendo un'azione Comunque Che vi volevo dire Quali erano magari I soprannomi che mi piacevano di più Anche se alla fine li vedrete Amelia era quello di Shasha Gray Perché ha preso dal Manchester City 5 gol in 36 minuti Poi vabbè c'è Jonathan l'equilibrista Abbiamo tutti visto l'Arm Lime Shake di Jonathan Che c'è su Youtube Quindi è una cosa veramente potente Intanto qua guardate il gol di Iaquinta Pauroso Eh Ranocchia Bolt Poi Rocchi su postone Perché appunto è pelato Iaquinta il furbo Perché si guadagna lo stipendio senza giocare Bentra ovviamente il gran bomber Capo canoniere della serie A Aronica Aronica il macellale o palermitano Montari Speedy kebab Speedy piadina panino kebab E poi Boh questi erano quelli che mi erano piaciuti Comunque alla fine ripeto Li vedrete già tutti Comunque qua l'avversario mi trolla Facendo una punizione Abbastanza potente Perché io ero convinto Che me la tirassi sopra la barriera Quindi salto E lui cosa fa Me la tira sotto Però vabbè Poi ci ripensa subito Jonathan A riportarci in vantaggio Di due gol Comunque questa qua Sarà una partita Una goleada Praticamente E Perché farò tipo Finirà 7 a 2 Non dovevo direvelo Ma ormai ve l'ho detto E poi ragazzi ecco Non una cosa che Vabbè ovviamente Perché c'era il contest Quindi non l'avete fatto Però Non mi avete consigliato E Altri giocatori da prendere Con i ruoli di Mi servirebbe Un attaccante E Due centro Uno o due Centrocampisti difensivi centrali Quindi Una TT E due O uno Come volete voi Cdc E quindi Boh se potete Fatelo Comunque qua arriva L'ultimo gol Di Se non mi sbaglio Io a quinta La quinta Che la mette in mezzo Per il grande Johnny Che appunto Firmerà il 7 a 2 Cosa fa l'avversario Vabbè qua ci poteva anche stare L'avversario su 7 a 2 Decise No Finisce la partita LOL Ho Errato Alla grande Comunque ragazzi Detto questo video Terminato E' stato un episodio Un po' diverso dal solito Perché Perché io li sto commentando Tutti nello stesso giorno Quindi non so bene cosa dire Comunque Spero che il video vi sia piaciuto E vi esorto Lasciare un bel mio gusto E quindi detto questo Vi saluto E in tutto questo Vai ragazzi E questo è una bolla E questo è un episodio E questo è un episodio